Stanno facendo rumore le sei assoluzioni che hanno chiuso in primo grado il processo aste ok. Da sabato sera sono stati scarcerati Livia Forte che nelle scorse settimane aveva lasciato il carcere con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, Damiano Genovese, Armando Aprile, Beniamino Pagano, Gianluca Formisano e Antonio Barone. Il capo di amputazione, formulato nei loro confronti dall'accusa sostenuta dal PM Woodcock nel corso del processo, è cambiato durante il dibattimento processuale. Per i sei imputati in questione, a garanzia dei loro diritti processuali, ne deve essere formulato un altro dal quale potersi difendere. Qual è il convincimento che la Corte ha maturato? Questi imputati non sono un tutt'uno con il nuovo clampartegno e dunque la loro posizione processuale va rimodulata. Certo, non sarà gioco facile dimostrare davanti ai nuovi magistrati, sia a Napoli e poi eventualmente successivamente a Tavellino, che effettivamente non c'è stata nessuna adizione, nessuna attività camorristica, c'è nessun esercizio di attività intimidatoria nei confronti dei debitori. Intanto ieri il magistrato Catello Maresca, in occasione dell'incontro con gli studenti dell'IT Amabile, ha sottolineato l'importanza di diffondere la cultura della legalità, evidenziando che nessun territorio immune dalle infiltrazioni criminali. Questo perché? Perché le mafie seguono i soldi e probabilmente vanno anche proprio dove non esiste questa sensibilità, perché è più facile attecchire, è più facile operare, si presentano con un aspetto che è diverso da quello che noi siamo abituati ad immaginare. Noi pensiamo che il mafioso sia una persona rozza dai toni e dai modi minacciosi e violenti, in realtà le mafie moderne sono tutt'altro, le mafie moderne si sviluppano proprio sull'imprenditoria, sull'infiltrazione mafiosa, sulla capacità di mimetizzarsi. Grazie a tutti.